Buonasera bellezze Buonasera 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 Come va? Oh grazie Link per i 7 mesi non l'avevo visto Grazie mille 7 minuti fa tra l'altro Grazie Grazie rinnovate 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 Ho registrato oggi Ho registrato Allora è stata un po' drammatica La registrazione di oggi Ne riparliamo Vi è piaciuto il video di The Jungle? Ho visto molti apprezzamenti Questa mattina Questa giornata Sta andando anche bene come visual Mi fa molto molto piacere Era Era un po' che un video non partiva bene Questo è partito molto bene Sono contento Sono contento di questa cosa Insomma Sono contento Se vi piace Io sono contento Insomma È un periodo purtroppo Dove le visual si abbassano Ovviamente Tra sessioni E cazzi Inmazzi Insomma Un po' così Però Devo dire che è bello Lo conosci già Turbo? Pensavo di conoscerlo solo io Grazie a Simon Che regala Saba Oxadron Tra l'altro questo gioco L'avevo messo in lista desideri Mi è stato regalato da Cold Fantasma Ho recuperato il video E le mie orecchie Un po' la maledicono Allora Su questo punto mi vorrei soffermare un attimo Perché Il video Interamente Completamente È stato abbassato di volume Voi Non avete sentito quello che ho sentito io In fase di gaming Voi non avete sentito quello che ho sentito io In fase di montaggio Mi sarebbe piaciuto mettere una clip Per farvi sentire il vero audio del gioco Ma Era talmente alto E talmente fastidioso Che anche con un avviso davanti Sarebbe risultato un po' troppo molesto E ho preferito salvarvi E non farvelo sentire Vi assicuro che l'audio era veramente veramente peggio Anche perché Io poi ho cercato di livellare un po' tutto Ma in realtà passava da zero A un picco incredibile E poi di nuovo a zero Era una roba Terribile Terribile E infatti spesso Come quando bevevo l'acqua Io sono stato zitto Perché avevo talmente rumore nelle orecchie Ero talmente frastornato Che non riuscivo a parlare Perché mi sarei messo a urlare Per poter superare il rumore E quindi sono stato completamente zitto Frastornato Frastornato ecco Vi ricordo Vi ricordo Che quest'anno A pagare Grazie a tutti 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 A capo Cioè ha fatto Stato Twitch e lo ripeteva ogni settimana ho detto no, non è comodo che lo ripeta ogni settimana allora loro giustamente hanno aggiornato e quindi adesso tu quando fai lunedì mattina dalle 9 e mezzogiorno Medieval Dynasty, perfetto e cerchi di andare a cliccare allora io lo faccio lunedì, martedì, mercoledì no come no adesso lo devi fare singolarmente quindi devi fare lunedì ok, martedì cosa fai? live per live anziché andare avanti siamo tornati indietro io ogni singola live la devo modificare ma perché? comunque, grazie mille ancora Sweetie per il disastro che è successo spero non abbia incasinato il suo portafoglio però grazie mille davvero grazie ai cazzi per i 100 bits che fai? non li dai 100 bits anche stasera? è certo buonasera a lei e alla chat grazie mille grazie a Dero Soliak per la subscription a Francesco per i 22 mesi e dopo un po' di tempo finalmente si torna a subare grazie per le risate e le spense di retezza che ci regala ogni giorno buona fortuna per la casa nuova tanti auguri a me benvenuti nella next gen ah tra l'altro mi hanno anche un po' incasinato ma no Sweetie figurati ci mancherebbe anzi non è assolutamente colpa tua è Twitch ma tranquillo Demon's Souls non dobbiamo per forza finirlo domani perché in realtà abbiamo più tempo perché c'è la question embargo allora mi hanno dato Immortals non solo Ubisoft mi saranno live sponsorizzate da Ubisoft per giocarlo tutto in live quindi giusto per dire che gli streamer tolgono mercato ai giochi no mi pagano per farlo tutto in live non vedo l'ora tra l'altro perché sono già contento l'ho già scaricato però come al solito io potrei iniziare a giocarci dal 27 però con i limiti dell'embargo gli ho detto guarda se me lo fate giocare direttamente da quando è disembargato sono più contento quindi adesso vediamo adesso vediamo quando io ho chiesto di iniziarlo il 30 sera perché il 30 sera finisce l'embargo io dovrei iniziarlo il 27 però col paraocchi perché questa cazzi non la puoi fare per vedere quella parte di mappa non la puoi fare parlare di quel personaggio non la puoi fare io così però in live è un po' difficile gli ho detto ragazzi fosse un video che posso poi tagliare via le parti ok ma in live in live riesco di far vedere roba quindi ho chiesto di rinviare questa cosa ero rimasto a car per il 100 bits dai gatto che arriviamo a livello 3 l'abbiamo raggiunto no non è vero dobbiamo completarlo a livello 3 grazie mille grazie a goodeye che regala la sub a darkun e aci che regala la sub a la stefi grazie ma che bravi che mi regala tante le cose sono contento grazie a leo pizzi per la sub a danna per i suoi due mesi a teoromango per i suoi sei mesi black scorpion per il 100 bits e gatz per i 25 speriamo perché se no casino in live effettivamente ma si ma esattamente come ho aspettato a a fare coso a fare watchdogs e l'assassino aspettato bastardoni hai comprato a casa ti odio eh in realtà non ancora non è ancora garantita come cosa però non so perché bastardoni ma ok cacca con l'embargo questo penso lo puoi vedere solo dopo il 30 sera che poi comunque lo giochiamo in anteprima perché il gioco esce il 3 per tutti quindi anche giocandolo l'uno sono due giorni in anticipo dovrei riuscire a fare la settimanina adesso vediamo quanto dura allora non so se le posso dire però pesa più di quanto mi aspettassi il gioco però non so se posso dire l'effettivo peso in giga prima non ho idea quindi me lo tengo per me mi faccio ragazzi il mio campo cent'anni grazie a mafraica buonasera ragazzo sto recuperando per la terza volta le sue live di wind waker bello 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 grazie per l'intertenimento di qualità che ci offre grazie a lei per i 13 mesi o comunque preparatevi che se lo fanno uscire anche su switch nuova serie di nuovo se rifà all'infinito grazie a good eye per il 100 bits e cold che oltre al gioco di stasera regala la sub anche a roxy a deucala a davoid a set lover e al tizio che passa ringraziate tutti i regaloni stasera a tutti quanti i regalatori dategli un bel grazie grazie a lupetto e siamo arrivati tutti felici a 30 mesi di ficcanza di ficcante quarantena no 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 e grazie a god eye per i due mesi oh 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 allora il gioco di stasera io non ho capito che tipo di gioco è a first person fantasy horror dai una bella persona no una volta anni fa di no it's a raffi per il 100 bits e healthar buonasera gatto saluti al signora si effettone grazie david siamo 19 sera gatto sera lei ah ok no ho capito abbassato dal mixer e vabbè ovviamente è uno di quei giochi che quando tabbi sparisce l'audio allora adesso voi sapete ma ho abbassato dal mixer grazie spec per i 100 bits a castvia per la subscription a rarser a rarser a rarser hero anche gli per la sub a black wines buonasera buonasera a lei e a joan per i 28 comunque mi piace che la qualità grafica sia ad alto però con questo bellissimo cubettone spixeloso però non ce l'ha neanche la barra dell'auto vabbè oh lo accettiamo dai se guarda i game awards in live si sperando che non ci siano problemi di audio dovrei fare anche i miei game awards non ho avuto tempo di fare i giochi quando è che sono i game awards sono sto mese giusto una volta anni fa di no il 10 dicembre ok allora ancora un po' di tempo il 10 dicembre vediamo un po' vediamo di fargli una settimana prima noi settimana prossima sarebbe una settimana prima è difficile difficile ma non impossibile provo a fargli 4 ci provo ci provo mi organizzo beh l'ultima volta li ho organizzati in un giorno quindi a luna di notte era no che storia fare il giorno prima di game awards beh effettivamente se tanto sono luna di notte noi ce le ricopriamo il giorno dopo grazie a guiras per i 6 mesi no devo farla popò arrivo subito scusa non ce la faccio io non so perché c'ho l'ansia scusate ragazzi che c'è un continuo cambio di temperature io sto malissimo cioè ci sono continui spifferi io sono andato in bagno anche prima di fare la live c'è veramente una cosa scusatemi scusatemi terribile mamma 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 scusatemi scusatemi adesso c'ho c'ho caldo è il pc che fa sto rumore ok mamma mia non vedo l'ora di lasciare sta casa e tutti i suoi spifferi di merda eh comunque ho letto mentre cacavo che molti si lamentano del volume della musica che metto quando vado in bagno in realtà io ottengo il volume alto perché ho sempre paura di dimenticarmi di mutarmi e visto che ho il bagno decisamente fin troppo vicino a questo microfono avevo paura che voi cioè ho paura in generale che voi sentiate le mie grandi pisciate o le mie grandi caccate quindi è per questo motivo che mi muto ma metto anche il volume al massimo che non si sa mai spero di essermi spiegato grazie a Drogon per i 28 mesi che mi pareva di essere arrivato a lui a Pezzotto per i 26 a Matt Byrbante per la sub a Monfrey per i 23 mesi a Pabu per i 4 buonasera ragazzo finalmente internet va bene riesco a seguire di nuovo anche la sera le si vuole bene a lei grazie a Skate per i 40 mesi a Fury Kid dai su si riprenda le si vuole bene veramente sono andato proprio prima di venire in live e pagliaccio 13 come 12 ma meglio vado 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 gioco l'ammazza che cazzo di volume avvio questo la prossima volta che devo andare in bagno grazie a Dragon buonasera cosa gioco stasera è questo soul that you have collected a dropper upon death ah ok le anime che hai raccolto vengono vengono raccolte dopo no le anime scusami le anime che hai raccolto vengono droppate dopo che sei morto grazie a Dede due mesi veramente ficcanti confermo giornate premi tab to view devo trovare un crocifisso e fin qui siamo tranquilli va bene è un soul quasi grazie a Giulia per i 100 bits grazie per la compagnia di questa triste compleanno ma tanti auguri che triste compleanno auguri è qui con noi eh Dede l'ho letto due mesi veramente ficcate sì l'ho letto l'ho letto e sì effettivamente è lì va vicino a Mario ok oh 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 meno 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 posso? oh sì cioè ma perché dal menu principale? ma voglio abbassare la sensibilità posto grazie posto grazie ma aspettate io devo abbassare un po' le luci oh oh meglio meglio per me è meglio ok che effettivamente erano erano pompate dal video ok ma è ancora eccessivo vabbè non importa dobbiamo trovare il crocifisso vabbè qua c'è Gesù ah ah ricorda 6781 segnate eh segnate 6781 boh e qua c'è un impedimento c'è sta sedia ah no non si apre qua 6781 segnatevelo nell'agendina grazie termos per il ride accligor 32 come il numero confermo e bacco invece che fa il contrario fa 23 complimenti not time to sleep not yet ok read ok see you soon ok vabbè c'è un bicchiere confermo è un bicchiere l'ho visto ecco il crocifisso jesus vieni qua ah è il crocifisso base questo è quello per barboni come vabbè take l'ho aggiunto alimentario abbiamo il crocifisso e lo ce l'ho premio x per usarlo una piccola statua di di lord jesus christ ok superstar tienilo al sicuro con te tutto il tempo a me il potere jesus christ superstar ma è meraviglioso crocifisso torcia gans of torres per i suoi 29 mesi e ale inghi per i suoi 33 illumina dimmenso boom vabbè apro è mai chiuso come era chiuso non ho capito ci sono delle coperte giustamente siamo in un bed and che cosa sarebbe questa cosa qua ma cos'è un tronco che cazzo uno scatolo ah uno scatolo forse uno scatolo e poi ci sono delle coperte vabbè guardate che non vedo bene eh grazie jesus eh ah ma se tengo ma anche prima ma mi pareva di aver tenuto anche prima vabbè non importa fortunatamente grazie alla croce scusami trovo difficoltoso dormire qui vabbè apro la finestra eh così passa un po' l'aria ma che piano siamo eh ah no siamo primo piano tipo c'è la luce no siamo pazzi che la spengono sono stupido scusami ma che cazzo di quadro è da avere in casa da in camera vabbè io che paura ma quanto era alto questo grazie a jack per i 22 mesi buonasera a lei a blades due anni aiuto per favore signor gatto mi doni a playstation 5 nella fiducia ma che ma che ti faccio un favore non darti al demon se l'hanno fatto col chiurlo grazie a balterion per i suoi 11 mesi e marta siamo a due anni gatto non riesco più a seguire molto ultimamente caso all'università ma si rinnova sempre ma grazie mille fa bene a studiare basta però quanti due anni avete che mi fate cacare sotto eh ma scusami ma questa è la stanza da cui sono partito ah c'è stato un twist c'è l'acqua bene grazie suggerimenti per la sub il lavoro è lavoro vabbè ma che è successo qua ah si è aperto di tanto così ok una volta anni fa di no scusami come dovrei prendere questa cosa cioè arrivo col crocifisso in bagno e mi lampeggia e salva che vuol dire che salva cosa salva ah ha dettato il giornale esplora la casa abbiamo fatto cioè che vuol dire c'è il maligno sono stato io che ho svuotato prima mi spiace ho tirato l'acqua però grazie a Mornik per 17 mesi a Ligermoglio per i suoi tre finalmente la mia prima sub da 18enne buona serata a lei complimenti grazie grazie a Damien ciao padre gatto esorcizzi tutto per noi suoi fedeli sono io sono io vedi aspetta che chiudo gli sportelli che sono un po' scomodo ah c'è un punto di domanda the mirror is shattered it's unhausable ah tra l'altro l'accaudino ve l'ho detto di là c'è uno zero di anime credo e sotto di me invece c'è zero candele non so che voglia dire di là anime sicuramente perché il gioco ce l'ha spiegato per le candele non ho la minima idea di che cazzo siano grazie a terror bitch buonasera gatto ci si spaventa in compagnia ma di che ma di che ma ti sembra che ci spaventiamo grazie a sax argattone stavolta le chiedo una benedizione per me no no non per me ma per i miei nonni che oggi ho scoperto essere due positivi al covid sono preoccupatissimo che si riposino e che si chiudano continuo a sbagliare ah perché gira velocemente la cosa che si chiudano in casa tanti auguri e grazie a lupo per i cinque mesi ma per che mi faccio coraggio ma questo qui è fratello il coniglietto ma con i capelli di donald trump ah no è un cappello che facciamo avvicino alla prole qua al bimbo una volta anni fa scusami ma che cazzo di giocatolo è perché se non riesco devo prendere quello l'immagine ma non riesco come si fa explore the house che c'entra si ho capito si ma non vedi che c'è una roba ah toycube found l'hai messo in realtà ok e che serve toycube found ma che mi servono ah da due a quattro ah me ne servono quattro in totale dunque che paura scusate ah ah però vedi mi piace il dettaglio della mela un po' ammaccata ma soprattutto il dettaglio che non non c'è trucco non c'è inganno signore e signori ma guarda il crocifisso che si illumina lì grazie a Danny the Dragon Ball per i 22 mesi quanto silenzio ma da che e grazie anche a Magic Fra per la sub quanta fatica qua a far tutto butta via sta cazzata auguri auguri no ah qua bisogna metterci P L ok quindi mi mancano delle lettere in più mi viene da dire ma anche qua nella stanza del bimbo i fioretti e Gesù ho attaccato giustamente potrebbero essere anche un po' meno drammatici ecco carta da parati fenomenale comunque complimenti per la scelta veramente elegante oh 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 I'm out of trouble eh guarda che c'è il crocifisso che mi fa luce va là ma dite che sono tutti dentro questa stanza i cubi io semplicemente devo andare ad esplorare che puttana di paura perché alcuni scoppiano altri no questo è il cuore che batte lo sentite è il mio ma il potere del crocifisso lì in alto che è questa è chiusa questa è chiusa chi è cos'è sta roba non riesco a capire Ercole che è quello lì chiuso master bedroom è chiusa ma c'è la morte che gli ciurla le cose signori accendo la luce certo che i quadri di Gesù poi abbondano complimenti pieno proprio saluto ma come fai se è indemoniata sta casa che è piena di Gesù da per tu che succede qualcuno qua ha fatto delle marachelle c'è la luce è chiuso I need to wait for Lisa Lisa guardate che c'è un teschio qua ma è terrificante è il teschio di cristallo lo sono messo in tasca giustamente e non c'è un cazzo mi sembra un crocifisso più luminoso comunque che questo qua mi fa fare la figura la cioccolata in realtà io non vedo un cazzo mi posso cucciare? si ok vabbè non ho senso andare sotto lì ma da on una mela? si la garden door ha bisogno di una chiave però la cosa bella è che qua è tutto acceso ma senza il mio crocifisso sarebbe molto più buio vabbè andiamo qui ci sono delle mele le mele le mele del maligno le mele del diavolo ma che cazzo è strutturata sta casa scusami un attimo che cazzo è sta roba? la workshop door ma che cazzo riposto? ma cos'è sta nicchia? è terribile potevano ricavarlo meglio lo spazio qua per la dispensa che non si ha no lo posso aprire ok e dentro c'è un vaso bellissimo maledetta brocca ma scusami non si ah si è solo da una parte vabbè ma che è? che è sta nicchia? no no stoviglie vabbè aspetta che finiamo qua scatolame ma io sono diventato quanto scatolame ma sono diventato un impiccione io non è che sto già del giro per la casa altrui a toccare a fare ma a me girebbe il cazzo che cazzo è? sbomba forno vediamo anche dentro il forno ha pulito? faccio il Gordon Ramsay della situa ispeziono la cappa come fare a quattro ristoranti eh 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 cos'è? eh bellissimi eh adesso che li ho visti è un piatto sembrava un foglio niente tocco sono un toccatore tacca bro cleptomane beh no oh la chiave del workshop oh la che è qui dietro no? che è quello che oh foglio abbiamo già trovato abbiamo già trovato è la mia mano ma ci ho sempre avuto la mano con la croce? sì? non l'avevo vista la mano con la croce che paura scusate in frigo c'è un'altra uguale uguale alla sbobba che c'è lì bene sono contento scusate scusate non l'avevo vista bello bello duro non sappiamo ce l'è davanti mi sposto di là è meglio? mi sposto eh cioè dirlo due volte mi sposto così vedete meglio vedi non vedete le anime che ho preso ma vabbè vedete le candele sai che roba quindi adesso abbiamo questo ho sbloccato la porta del workshop come balla la lampadina oh no oh no oh no aaaah vaffanculo ma le sembra il caso cos'è stato? che vuol dire? perché è saltato? cos'è qua? cos'è rimasto il tappo? ma perché? perché è saltato? cosa è saltato? che è successo? ma datemi la giustificazione ma che palle cos'era? vaffanculo ma a caso? ma cosa vuol dire che è a caso? c'è il demonio dentro i barili? che vuol dire? che cosa devo fare? grazie a ex per i venti mesi scusate ma quindi allora qua è rimasto il tappino tra l'altro vedi qua eh c'è stato jamsker ok e ah no aspetta lì cos'è ma non è niente e basta cioè basta io sono venuto fin qua pam e fine? come guardi bene? che cosa non ho visto? ah qua piove oh ah ok ma di che cos'è? ah eh ma qual è la la broken door? c'è una broken door? dov'è? dov'è la broken door? hai ragione hai ragione ma però adesso che ho la maniglia non so dove mettermela ne fino nel culo che maniglia c'era? la master room era rotta? ok cos'è c'è qua? cosa sono queste lucette? ciao jesus radio non va mannaggia è un gramofono qua no perché anche poi parte qual è il biglietto? grazie a dream 26 come il giorno dopo natale confermo confermo ah ecco qua ecco qua vedi eh però ah no si apre si apre non mi avete fatto paura mi fa più paura sto schifo qua che cos'è? ahhh fantasmone? no io sono un fantasmone guarda lì oh 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 a power travel scusami questo va sul corridoio no un altro cesso eh esploriamo la master bedroom che ti devo dire che? questo vibrino eh store room door is locked santa pazienza cos'è? ah no è un cazzo mi sembra che ho aumentato il battito io vicino a qualcosa non ci voglio stare però posso dirlo beh un libro ah checkpoint però an urban legend that says that anyone who chants the word bloody mary three times in front of mire will summon a vengeful spirits e noi non lo facciamo noi non lo facciamo the legend the ritual vabbè abbiamo capito adesso sì ho capito bisogna dire il suo nome è allo specchio tre volte con vicino a una una fonte di luce e le luci vicine devono essere spente ma io non lo voglio fare scusami ma non è un'idea di merda? ma come? ma perché dovrei? ma che obiettivo del cazzo? ma scusami ma non voglio ma perché dovrei farlo? vabbè eh lo dico però adesso ho la luce accese one two three però non va sporco il coso sporco il mirror quindi una volta anni fa di no ora continuo a guardare i piatti grazie a Rob pensavo di averli già fatti quando tu e vabbè buona live gattone un abbraccio rigorosamente a distanza grazie ah no devo trovare uno specchio buono devo trovare uno specchio buono a quest'ora lenzuolo dici? non mi farà cogliere niente vediamo pulire come lo pulisco? sputti? ah no lo ridice aspetta per un attimo devo spegnere le luci te lo dico io che silenzio l'acqua della vasca schizzetto? dici che è schizzetto? ah ma che siamo pazzi cosa vuol dire sta cosa? ma che scusami ma sa la cosa da fare queste eh che vuol dire? magic su non faccia il caghetto e vochiamo questa ma ha fatto lei ha fatto ma che vuol dire? cosa sta succedendo? non mi ha rifatto la cacca prima eh sì quindi? l'asciugamano? ah giusto che vibramento qua questa terra non posso non posso questo non posso questo posso fare un cazzo ragazzi non lo so in realtà è bicchiere bravo beviti un acqua non so no non posso più tornare al piano di sotto ragazzi me l'ho chiuso dentro rega il ricettario salmon bloody mary eh sennò inventa non me lo dice più ma che riempi il bicchiere d'acqua adesso che pretese si è spostato il manichino sai che è un pelo sì? a occhio è un po' più in qua o no? è un tavolo buono che conosco i proprietari sembra eh era un po' più in qui prima no? ne spende tutte le luci anche secondo me ma non lo voglio fare questo era il discorso lisa buonasera sorgato mai dimenticarsi di rinnovare mai mai grazie non so che fare la cassetta era sotto lo specchio questa non ho aperto ma non l'ho aperta prima l'ho aperta prima sì cosa è successo il soffitto? cioè non ho capito si è dato il pavimento o si è sistemato il soffitto? ah si è spaccato il vetro eh non ho capito accendo il ventilatore fa caldo grazie a nonna celestina l'ultimo jumpscare mi ha fatto dimenticare le cose cosa volevo dire niente buone vocazioni grazie non ho capito cosa c'è? un cerchio questo è rotto ho capito vado al cesso che devo fare? che è? dichiarare il secondo caso? grazie a Sandwich buonasera signor Gatto oggi rinnovo per due mesi come le mie due inquiline con cui seguo sempre le sue live un saluto a lei gra grazie eh siamo finiti in macelleria no perché spegni questo è lo stesso quadro di prima buone questa se verse se verse triangolo no non lo avevo considerato quali sono? falene? falene o più più falene? oh c'è il cubo in bocca buone grazie signorina che fa? signorino signor vabbè che fa? la floscia? respira? vabbè tante care cose lei famiglia tutti quanti te luce che fa? andiamo qui nella ruota di calesse accendiamo la luce e ah vedi qui c'è la corda per giocare che vuol dire? veramente? fenomeno chi è? eh dove vado? scendi questa è la mia bravissimo bloating bloating myry po 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 oh 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 bloating myry oh no fiori a mary? c'è qualcuno? rompo i coglioni? ho fastidio? potrebbe fare la svelta? mi fa partire qualcosa? sei qui? dacci un segno come ti chiami? ah ciclista c'è un disco un vinile wow speriamo che siano i bijis tu ra lura lural that's an English lalabi no non sono i bijis peccato il ritmo c'era fever night fever night fever non apprezzo una buona musica perca puttana ma che vuol dire questa cosa qua che succede ogni tanto? se cambia canale c'è qualcuno che si rompe le palle e cambia canale giustamente chi è? è Niki Lauda? Pantani? pisa luce qua che si vede niente metto il disco allora aspetta eh disco dance vai io non la sento non c'era la manetta sentite voi cos'è? mi sono seduto? ma veramente? ecco che feature le crocche si do in something really strange oh non mi pare che cosa sto facendo di strano l'orologio vogliamo andare a bere qualcosa? ma con grande piacere i sogni lucidi sono conosciuti per centinaia di anni ok ah per avere la selfie perca troia per avere la selfie ipnosi devi sederti e rilassarti in una posizione avere un metronomo da ascoltare è qualcosa di ripetitivo eh allora tecnicamente abbiamo messo la musica abbiamo il metronomo e e adesso ci ci ipnotizziamo no? ma l'ho messo il vinile? ragazzi non ce l'ho più il vinile l'ho messo mettono il nome a sinistra ah ce l'ho mettono il nome vero e proprio ah cazzo ok chiudi gli occhi chiudi gli occhi ti hai riaperti è stupido chiudi gli occhi così bravo niente non ce la fa e rilassati eh grazie solox per i 34 mesi trova l'artefatto una volta anni fa ma io non sto capendo una ma posso dire che sto capendo un cazzo che paura ah c'abbiamo la mappa ah perché siamo nei dungeon ma che cazzo di ma è bellissimo questo gioco ma quante colonna vertebra perché la raccolta la colonna vertebrale che me ne fa colpo della colonna vertebrale comunque ho preso ah ho preso la candela uno due e tre e mi prendono anche il vaso non lo so le candele servono probabilmente a fare luce perché mette c e la do ah che vuol dire che mi tira fuori la candela al posto del coso e il crocifisso fa luce la candela non fa un cazzo cosa il crocifisso si consuma nel dungeon eh però scusami la candela non si accetta ah forse no ma che bello grazie a joy per i 59 mesi mica tantissimi ma che figata questa meccanica del crocifisso ma si ricarica si ricarica anche il crocifisso non ci sono di boccia qua che c'è un cavaliere un crociato che fanno i bimbi scusami sei comodo tu eh e il crociato non fa niente i bimbi guardano che guardano questo che cos'è questo oh che paura che vedono vedono un cazzo sti bimbi ma che ne so io vabbè scusi eh vado di qui che fa vibra c'è il cesso c'è qualcuno che corre mi siede anche il percorso che ho fatto delle crocifatte con col cazzo ah non posso portare più di tre candele vabbè me ne accendi una cortesemente ma con grande piacere azzacchezzal per i suoi tre mesi e a so per la sub salve il lavoro è lavoro eh vabbè ma ma Natale è che si bircia sta bambina ah vedi cena a lume di candela che eleganza qui posso aprire eh c'è un teschio I need the crucifix oh e che ci vuole cosa fa che tiene la candela la ghetto style cos'è che fa con sta testa non me lo raccoglie però che faccio permesso eh no voglio questo non ho capito chi è ma che cazzo è abbastanza stupido che fa questo cosa devo fare eh nove diecimila come diecimila perché diecimila adesso vi faccio vedere guardato guardato diecimila ma che vuol dire diecimila diecimila che c'è diecimila ma quello lì che camminava lì con la candela così chi era repent your sin va bene repentiamoci il lavoro è lavoro sta pregando torna nexus dichiarare il secondo ah hai già confessato i tuoi peccati a dio ah mi ha ricaricato il crocifisso cos'è sta luce la chiave serpente altri bimbi che sbirciano che cazzo sbirciano tutto glicciato qua ah mi si è spenta la candela va bene ah ma che fa ma che cazzo di porco io ce l'immagine il tempo lì con la candela bestia bestia vediamo se ci fissa il sistema potere di eh no non serve a niente effettivamente non serve a niente e quindi cioè potevo provare a passare ma secondo me ammazza che è successo secondo me mi ammazzava però se facevo quella roba lì penso persa fammi vedere la mappa eh mi vado di qua no ma c'è una via a destra ma anche a sinistra fammi vedere chi è chi è oh il crociato il cavaliere nero orca troia ma aspetta uso il potere aha aaaah lui sbatte un cazzo lui del potere della croce sbatti i coglioni lui giustamente c'ha la spada chiama lo scemo chi è? ah era la parte opposta della cosa ma mi rincorre ancora ma pentiti Gesù ahia e ho capito l'ora è il 24 sono passate tante cose in due anni a questa parte ma lei è sempre costante hai visto? ah io sono una costante grazie mille sono anche costante devo trovare la mia membra ero qua perché sono morto no sono corso troppo su stanco era era qua il cavaliere nero? si c'è la porta quanto stanco stanchissimo troppo stanco ok scendia la luce ok e questo qui ah e c'è la nostra tomba perfetto e ha preso 10.000 anime si qual è la chiave qual è l'artefatto ma l'ho già trovato però non so come uscirne in realtà vediamo mi manca ad andare giù di qui andiamo giù di qui e grazie anche a Alex sono molto felice di questi due mesi grazie mille a lei non è di non so schiacciare le cose ok ok il cazzo scusami dove siamo? un'altra cosa bare ma si apre che paura ma c'era bisogno? e darselo in faccia ah no aspetta guarda c'è una una situazione di arrampicazio mi arrampicazio io allora tra i corpi che me frega me mi arrampico posso farlo no ma che veramente di quelle volte c'è più religione grazie Tina buonasera cattore 15 come le dita dei piedi e una mano ringrazio per la compagnia grazie a lei dove devo andare ma dove sono morto giustamente ma subito di qua invece che cazzo c'è? ma non c'è niente di qua ah no è oltre salve ma è nuda ma che cazzo vuole signora? beh crocifisso? ha mangiato? grazie barro che pretende tra tre mesi ci ho capito però così non va bene te lo dico fatti chiari amicizia lunga siete un po' stronzi non mi dire che ho perso le anime come dark souls? no era veramente come dark souls che devo fare? sempre quello ma quindi non posso recuperare più le mie diecimila anime ma erano tantissime erano non so che servono ma erano veramente tante e di nuovo qua mi sbatte qui ero morto no? no c'è uno col candelino salve lei è il suo candelino posso prendere il pane? non so a che serve ma lo prendo lo ha detto il full ah mi serve a quello il pane ma devo andare proprio di lì mi scusi si può togliere dal cazzo? devo passare grazie sto bene però scusi candeliere non è che ha visto il mio cadavere? com'era? a lui troppa si posso avanti non è cattivera eh niente quindi le ho perse quelle anime lì scusami un attimo ma salire qua che è servito allora? non mette a fuoco eh no ah niente fagli il backstab non ho capito ah forse per nascondermi dici curioso ma va bene salve com'è brutto lui ok c'è il cavaliere nero lì però si è tutto buggato perché è un po' uno stronzo e chi sono io per andarlo a contraddire? vado di qua a rivederla ok vedi qua non ci sono stati ho perso 10.000 anime ma io sono triste grazie a Nickup per 25 oh di nuovo mi si rompe tutto il muro io ho perso 10.000 anime e che servivano? ma quindi io ci posso tornare lì? ah non lo fa vabbè ci possiamo fermare visto che ha salvato grazie a Nickup per i 25 mesi ho colcifisso consumato hai ragione non si ricarica più sì però tanto non si consuma qua no? mi ce ne sbattiamo anche il cazzo bisogna farmare è Jesus però eh anche tu ma perché i bussatori del bagno alle 3 di notte bisogna bussare tre volte niente non so che ora è usne snake key è qui? era pure aperto ah ma fa il culo eh il fuoco com'è impertinente lì vabbè facciamo che lo continuiamo? è carino è carino ho capito beh è carino dai più righe e c'era il water aperto tra l'altro qualche dubbio ma boh grazie al lord leogan per i suoi due mesi grazie alla compagnia gatto sempre squisita in un momento in cui ci si sente un po' delusi dalla vita ma io l'abbraccio forte forte vedrà che le cose si sistemeranno è una garanzia prima o poi la ruota gira non possiamo rimanere sempre stronzi e grazie anche a radio Cadrega per la subscription per divertirci ci sta tra l'altro devo chiedere a Danny una sera libera perché ho un gioco da fare con lui come consulente adesso ne lo sento domani sera ragazzuoli live con Karim quindi domani mattina demons domani sera andiamo avanti con Karim su pacify andiamo avanti facciamo il secondo livello di pacify e che ormai siamo diventati fortissimi e nulla altri appuntamenti ficcanti o particolarmente intriganti non mi vengono in mente eeeh quindi nulla non possiamo rimanere sempre stronzi e fasmofobia eeeh fasmofobia come cazzo si chiama non l'hanno più aggiornato in maniera interessante dovrei riguardare ma mi è sembrato che rimanessero lì gli aggiornamenti non ne ha più avuti infatti l'ultimo aggiornamento del del 4 novembre non hanno aggiunto gran roba comunque grazie Alessandro l'ultimissimo per i suoi sette mesi finalmente riesco a rinnovare un saluto a letto saluto a tutto il letto noi ci vediamo domani mattina appunto come dicevo con eeeh demons lo giochiamo chill vi ricordo si giocherà con molta 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 tranquillità calma e pacatezza eeeh ma si dai vi mando da da quel deficiente di umido ormai mi son preso bene e gli diciamo e gli diciamo a quanto è morto e sei mentecato ragazzi è sempre un piacere vi auguro una buona dolce notte ci vediamo domani mattina ciao